Oggi a Pescara c'è questa testimonianza anche drammatica di quello che sta accadendo oggi in Venezuela. Giuseppe Di Fabio è stato un mese in carcere in Venezuela, politico dello stesso partito di Guadò che sta lottando per cercare di salire il governo del paese, ma in Venezuela c'è oggi una situazione molto difficile. Sì, è una situazione molto difficile. Vediamo che adesso siamo più di 4 milioni di abitanti venezuelani che hanno andato via perché è difficile lavorare tutto il mese in Venezuela e guadagno 2 euro, 2 euro qua sono 2 caffè. In Venezuela come mangia il popolo con 2 euro? Non mangia, sta a morire di fame. E quando vediamo che passano 7, 8, 9 giorni a camminare per andare a Colombia e dopo andare sull'America buscando una migliore vita, uno dice che è difficile la situazione in Venezuela. Quello che parla sul contro al governo va in carcere e quello che rimane cagliato deve andare in Venezuela perché in Venezuela non si può vivere adesso. Quella del carcere, un mese in carcere è stata un'esperienza terribile? Sì, è un'esperienza troppo oscura, la dico io. Io mi ricordo, prima che io come autorità eletta di un municipio non ho avuto un'opera, non ho ognuno. Non ho iniziato, non ho avuto ordini di captura. Просто per gli ordini di Maduro mi hanno incarcelato. Dopo mi daravano a mangiare un uovo al giorno. Io ho demagrido 15 kg in un mese perché non mangiava, una tortura troppo forte. Guarda, qua dopo di cinque anni si vede la cicatrice che hanno fatto per il traslado, e quattro ore su un barco, non lo so come si dice la sposa, gli segni dentro di un barco, a chi importa? Io sono un cittadino innocente, simplemente per dirgli alla faccia Maduro che sei un dittatore e noi ti portiamo via.